E salve a tutti amici coperiani e bentornati in questo nuovissimo video Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate il link al discord della community italiana di Dead Matter e anche a quello della community classica Siamo arrivati all'undicesimo vlog, il decimo da quando ho iniziato a farlo è andato molto bene Quindi spero che vada bene anche questo perché il mio obiettivo è quello di far sapere che aggiornamenti ci sono anche a chi non conosce l'inglese Io non lo so perfettamente, so l'inglese ma non lo so perfettamente se si va nel dettaglio Infatti ci saranno alcune cose che so che cosa sono ma non so effettivamente come tradurle Però basta che poi magari ve le andate a cercare su google, tanto sono due cose E magari capite e poi magari a fine video vi dico quale saranno Quindi niente, non mi voglio dilungare troppo, spero di riuscire a far combaciare tutto quanto Va a sapere quante prove mi ci vorranno e niente, buona visione E sopravvissuti, benvenuti all'undicesimo vlog Sono passati due mesi dall'ultimo vlog e hanno un sacco di cose da dire Incluso un sacco di lavoro fatto all'ottimizzazione Dopo il decimo vlog hanno reclutato altri tre level designer per aiutarli a mettere il tutto insieme Sono stati un enorme aiuto per il progetto e un sacco di lavoro sta venendo completato Non solo con l'obiettivo di espandere il mondo Ma anche per l'ottimizzazione e per essere sicuri che tutto sia funzionante per la closet alpha C'è ancora diverso lavoro da fare ma sono eccitati a mostrarvi a che cosa hanno lavorato dopo il decimo vlog Canmore ha ricevuto un sacco di amore dal team di level designer ed è quasi completa Con tutte le caratteristiche che vi aspettereste da dimettere Come gli interruttori per le luci, strutture arrampicabili e molto altro Canmore è immediatamente diventata più grande di quanto avevano pianificato E la stanno sfruttando al massimo per i test sulle performance pronte per la closet alpha La città è caratterizzata da un sacco di case residenziali, supermercati e fabbriche all'esterno della città Ci sono un sacco di varietà di località da esplorare all'interno di Canmore stessa Località chiave come un grosso negozio alimentare, biblioteca, il rack center sotto costruzione Molteplici Nora Camps, clinica medica, stazione di polizia Come migliaia di case e negozi che si estendono verso la stazione di polizia come visto nel decimo vlog Canmore è veramente enorme e non può essere presa sotto gamba Passiamo alle armi e cambiamenti alle animazioni Kyle ha migliorato il vaulting, adesso sembra più reattivo di prima Ha anche aumentato la fluidità di tutto il sistema di vaulting E ha anche migliorato la mappa che viene utilizzata per posizionare bene il giocatore nel mondo Basato su feedback della community hanno aumentato anche le varietà di armi civile Mentre stanno comunque creando quelle militari Adesso che la R15 e il Kalashnikov hanno un loro posto nel mondo Si sentono che avere una vasta scelta di armi civili sia ottimo Essendo che sarà ciò in cui noi ci imbatteremo di più durante il nostro percorso E per affrontare ciò hanno aggiunto nuovi shotgun Il primo è l'Over 900 che tecnicamente non è una nuova edizione ma un nuovo set di animazioni E una nuova mesh con set di skin attachments E si potremmo usare una sega per tagliare la canna e trasformarla in un'arma a corto raggio boomstick della distruzione Questo è come l'hanno descritto Hanno aggiunto anche una delle armi preferite di chi sta parlando sotto a me E che è il model 1887 che è uno shotgun a leva con cui potrete distruggere gli zombie con efficienza Come delle macchine da guerra Il 1887 e l'Over 900 portano il totale degli shotgun a 4 E stanno lavorando ad aggiungere un altro fucile a leva nel prossimo futuro L'M14 adesso ha un set completo di animazioni come il caricatore da 10 e 20 Sono completamente animati e con i suoi 308 è pronto a distruggere gli sfortunati che si ritroveranno dall'altra parte della canna E potrete metterla anche in full auto se trovate la variante giusta Poi basterà soltanto gestire il ring Il Mosin è stato migliorato con un set di animazioni nuove e adesso è 10 volte meglio Poi hanno aggiunto anche un classico canadese il VZ58 che è originariamente creato in cecoslovacchia E adesso la Repubblica Ceca l'ha reso simile al classico AK ma è l'unica similitudine che hanno tra di loro Perché il VZ58 può essere caricato tramite il classico caricatore come tutte le armi O anche tramite lo stripper clip come troviamo magari nel Garand O se no anche proiettile per proiettile Ultima ma non per importanza hanno aggiunto anche un classico che è la revolver E la Tech 9 che sinceramente quest'arma non la vediamo spesso È un'arma rara classificata come pistola Usa un caricatore da 32 ma è facile finire i colpi Quindi pensate bene a come sparare Hanno fatto un grande passo nel sistema e nell'inventario Incluso la reimplementazione di funzionalità che erano state rimosse Quando avevano rifatto l'intero inventario dall'inizio dell'anno Gli oggetti che vengono presi con due mani erano già stati implementati Ma adesso lavorando nello specifico hanno migliorato le funzionalità Rendendo facile l'implementazione di altri oggetti grandi che devono essere trasportati a due mani Gli oggetti grandi che devono essere trasportati a mano hanno un nuovo set di animazioni Invece prima era che l'oggetto stava attaccato allo schermo e il movimento della testa faceva tutto il lavoro Tutti i lavori dell'animazione E oltre a poter piazzare precisamente oggetti grandi nel mondo Li potrete anche droppare con un singolo click E possono essere anche utilizzati per respingere gli zombie Ogni oggetto con un suo inventario può essere piazzato nel mondo Incluso lo zaino o lo container E basato sul feedback della community potrete creare uno stash interrato con un secchio Tenendo premuto R con una pala in mano Quindi voi scavate e ci infilate un secchio facendo una stash Il vecchio sistema di trasporto merce su un veicolo visto nel quinto vlog Che funzionava con punti di piazzamento predeterminati è stato rimosso Adesso c'è un sistema di inventario 3D Che dà la possibilità di mettere qualsiasi oggetto piazzabile E potete anche accedere all'inventario dell'oggetto piazzato nell'inventario 3D Speriamo, sperano che ciò renda la gestione dell'inventario migliore E sperano che renda anche lineare lo spostamento degli oggetti da un veicolo all'altro Hanno anche implementato un sistema di crafting modulare Che vi darà la possibilità per fare diverse combinazioni Ad esempio potete combinare chiodi, martello e mazza da baseball Per poter creare una mazza chiodata che garantisce un danno migliorato E ogni tipo di modifica all'arma Come attaccare o staccare le rail o gli attachments Funzionerà nello stesso modo più avanti andando Le armi funzioneranno con una varietà diversa di sistemi Il lockpicking è quello tipo fallout E anche avviare una macchina con i cavi avrà il suo minigame Che se fatto con errori porterà all'attivazione dell'allarme che attirerà gli zoppi C'è anche un sistema che vi permetterà di raccogliere la legna Vi basterà un'ascia e un po' di tempo per tagliare l'albero E prendete nota che in futuro raccogliere un tronco sarà simile come alla bombola di ossigeno mostrata prima Hanno implementato un nuovo sistema medico Che è nascosto nelle stats mediche E ogni stats del player può essere modificata e usata per ogni cosa E questo ci permette di modificare facilmente il comportamento delle vostre barra nostre condizioni Cure, perche, attributi e molto altro La vita degli arti è una cosa a cui far caso come Tarkov Perché se il vostro torace o testa vanno a zero morirete subito Il recupero della vita è basato sulle stats del PG come anche il sangue Se ne avete poco sarà più lento Ci sono anche nuove animazioni come bere una lattina o bendarsi E tenete bene in mente che non c'è modo di curarvi durante il combattimento Quindi pensate bene a come agire Poi c'è il Gore System che è nelle prime fasi di implementazione Ma devono ancora migliorare qualche dettaglio prima di farlo uscire E sono eccitati di mostrare il completo Gore System e Damage System per gli zombie una volta pronto C'è stato un passo nel sistema dei veicoli ma attualmente è ancora work in progress Vogliono essere sicuri di ripulire le animazioni in terza persona quando state guidando E anche se qualcuno sta guardando dall'esterno uno che guida Kyle ha implementato un sistema di free look Che vi permetterà di osservare velocemente quello che vi circonda Senza cambiare la vostra direzione L'IA degli zombie è stata migliorata Le animazioni sono ancora in corso ma il loro comportamento è più affidabile e modificabile di prima Kyle ha implementato anche un tipo di spawn dell'IA Per essere sicuri che gli zombie siano sempre nei paraggi quando voi sparate E quindi assicuratevi di trovare un'arma corpo a corpo In modo da evitare di attirare zombie o player nella vostra direzione E se siete nel Discord della community avete notato che gli sviluppatori hanno lo stato di Developing Dead Matter o Playing Dead Matter Questo è dovuto al Discord Rich Present Integration E vogliono che giocare con gli amici sia il più facile possibile E che questa integrazione nel Discord lo renda semplice quando arriverà il tempo della Closed Alpha Adesso i giocatori hanno anche il nome sopra la testa E potete anche gruppare insieme E l'HUD di ciò è ancora in lavorazione ma vogliono rendere il più minimale possibile E vogliono modificare anche il comportamento del Crosshair Nomad ha modificato anche il menu e sono molto contenti di questo E per quelli che se lo chiedono hanno aggiunto anche la possibilità di giocare single player in tempo per la Closed Alpha Però tenete bene a mente che il PC utilizzerà più risorse rispetto al giocarlo online Niente signori, spero che questa traduzione vi sia piaciuta Vi sia stata utile, che abbiate capito bene perché magari ho parlato bene Se ne volete altre iscrivetevi E fatemelo sapere sotto i commenti Anche se c'è qualcosa da cambiare, qualcosa che non va bene Insomma fatemi sapere, datemi qualche feedback che prende i vostri consigli Li leggo sempre e li prendo comunque in considerazione Quindi niente, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao We should probably split Cause there's uh What? There are four more over there This guy's not with us Who the fuck are you? Give us your fucking pants You know the fucking routine Drop the fucking pants No, not again Come on Take off the fucking pants man Take off the fucking pants Take off the fucking pants man Take off the fucking pants man Take off the fucking pants man